State ascoltando SPS Italian. Nello sport il Milan vince il derby contro l'Inter, Lando Norris il Gran Premio di Singapore di Formula 1 e l'australiana Grace Brown, il titolo mondiale della cronometro femminile di ciclismo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto del giornale radio di SPS Italian di lunedì 23 settembre 2024 in studio Domenico Gentile. Iniziamo dal conflitto in Medio Oriente. La coordinatrice delle Nazioni Unite per il Libano, Janine Ennis Plaskart, dice che la situazione nella regione è grave e potrebbe spociare in una catastrofe in seguito all'intensificarsi degli scontri tra Hezbollah e Israele. Hezbollah ha annunciato di avere lanciato un attacco missilistico contro la base israeliana di Ramat David in risposta ai raid di Tel Aviv in numerose regioni del Libano. L'esercito israeliano conferma che 85 missili hanno attraversato il loro spazio aereo ma che la maggior parte sono stati neutralizzati dalla contraerea. Le scuole di Haifa e più a sud nel territorio israeliano sono state chiuse e il portavoce militare israeliano Erzi Halevi dice che nel paese sono permessi raduni al chiuso per un massimo di 300 persone e di 30 all'aperto. Intanto Israele dice di avere quasi completamente annientato la catena di comando di Hezbollah dopo avere bombardato una palazzina nella quale si trovavano alti funzionari dell'organizzazione. Sull'aggravarsi della situazione al confine con il Libano si è espresso il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani a New York dove si trova con la delegazione italiana per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Tajani dice che la situazione è resa più complessa in Libano dal fatto che non è ancora stato eletto un nuovo presidente né nominato quello della banca centrale libanese. Bisogna arrivare a cessare il fuoco, bisogna impedire che peggiori la situazione in Libano, certamente dipende anche dai libanesi. Una elezione del nuovo presidente della Repubblica, l'elezione del presidente della banca centrale permetterebbero di avere degli interlocutori in grado di contribuire alla soluzione del problema. Nel frattempo protesta della emittente araba Al Jazeera dopo che soldati israeliani hanno fatto irruzione nei locali della sede di Ramallah causandone la chiusura. Israele ha anche vietato le trasmissioni di Al Jazeera in territorio israeliano. Intanto i leader mondiali stanno convergendo su New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale. La presidente del Consiglio, Giorgia Beloni, è già negli Stati Uniti dove a margine dei lavori dell'Assemblea partecipa al Vertice del Futuro, una iniziativa globale delle Nazioni Unite che mira a stabilire nuovi patti e dichiarazioni per indirizzare sfide cruciali quali la disparità digitale, la protezione delle generazioni future e la sostenibilità ambientale. Durante il Vertice a Giorgia Meloni sarà consegnato il Global Citizen Award e nel suo intervento al Vertice per il Futuro e il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo ha definito molto importante per la cooperazione internazionale. Il Pacto per il futuro può servire come un compasso per noi. Un compasso con cui si guida verso la cooperazione e la partenza invece di verso il conflitto e le fragmentation. Un compasso che guidiamoci a un mondo più giusto, inclusivo e cooperativo. E nelle ultime ore nella città americana è arrivato anche il presidente ucraino, Vladimir Zelensky, che mercoledì dovrebbe effettuare il suo discorso davanti alla Assemblea Generale dell'ONU. Trasferiamoci nello Sri Lanka dove Anura Kumara di Sanayakel e di orientamento marxista è stato eletto nuovo presidente della Repubblica. Il nuovo leader dice che l'obiettivo è di combattere la corruzione e rinegoziare, almeno in parte, i termini dell'accordo sottoscritto dal suo predecessore con il Fondo Monetario Internazionale. ha vinto con il 42,3% dei consensi, una percentuale notevolmente superiore al 3% che aveva ottenuto alle elezioni precedente. Il banchiere Mohamed Nafan dice che lo Sri Lanka ha bisogno di un cambiamento politico. After 76 years of bad politicians did something bad to our country, this is the change we need and actually that's we, our hope, the new president will do something better. Veniamo in New South Wales. La ministra del patrimonio culturale Penny Sharp si è detta onorata di avere dichiarato parte del patrimonio dello Stato il primo rifugio per la protezione delle donne vittime di violenza domestica. Istituito nel 1974, Elsie Refuge, del soborgo di Gliba, Sydney, inizialmente è stato finanziato con donazioni pubbliche prima dell'intervento economico del governo statale. Oggi ha oltre 800 sedi in tutta l'Australia con la missione di aiutare donne e bambini che fuggono dalla violenza domestica. Ora la sede originale fa parte del patrimonio storico del New South Wales e la ministra Sharp dice che è un simbolo importante per lo Stato. What this really is about is about the building, it's about the people who went through it, it's about the change lives and it's about the movement that created women's refugees and really started the conversation about domestic violence and violence on women and children and they need to be able to live free from it. Restiamo in Australia, ci sono buone notizie in arrivo per l'economia australiana. I dati relativi al debito pubblico, che verranno resi noti ufficialmente alla fine del mese, indicherebbero che il debito nazionale sarebbe diminuito di quasi 150 miliardi di dollari, scendendo a poco più di 900 miliardi. Inoltre l'attivo di bilancio dovrebbe essere superiore ai 9 miliardi previsti dal governo. Il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, dice che la percentuale del prodotto interno lordo del debito pubblico dovrebbe essere di poco superiore al 10%, una cifra inferiore a quella lasciata dal governo precedente. Torniamo negli Stati Uniti, dove continuano le ricerche per gli autori di una sparatoria a Birmanton, nell'Alabama, nella quale sono morte 4 persone e 17 sono rimaste ferite. L'attacco è avvenuto nel quartiere dove si trovano numerosi locali notturni. Il capo della polizia locale, Scott Thurmond, dice che la maggior parte dei feriti sarebbe stata colpita per caso durante l'attentato a un esponente della malavita locale. La polizia dice anche che le persone ricercate sono scese da un'automobile, hanno sparato e poi sono risalite sul veicolo e fuggite. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano questa mattina vale 68 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo alla ampia pagina sportiva. Calcio, risultati della quinta giornata di Serie A, giocati in nottata. L'Inter ha perso in casa contro il Milan 2-1. La Fiorentina ha battuto la Lazio 2-1. A Monza il Bologna si è imposto 2-1 sulla squadra locale e la Roma ha battuto l'Udinese per 3-0. La classifica vede solitario in testa il Torino con 11 punti, seguito da Napoli e Udinese a 10 e Juventus e Empoli a 9. Domani il posticipo tra Atalanta e Como. Formula 1, Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay. Lo ha vinto Lando Norris su McLaren davanti alla Red Bull di Max Verstappen e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quinto Charles Leclerc sulla sua Ferrari e l'altra Ferrari di Carlos Sainz Jr. è giunta settima. Max Verstappen guida alla classifica piloti, 331 punti, Norris ne ha 279 e Leclerc 245. Moto GP Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito Marco Simoncelli a Misano. Lo ha vinto Enea Bastianini su Ducati davanti a Jorge Martin e l'altro spagnolo Marque Martez. Francesco Bagnaia è caduto, Jorge Martin guida alla classifica piloti con 341 punti davanti a Bagnaia, 317. Ciclismo mondiali su strada. In Svizzera, cronometro donne elite. L'Australiana Grace Brown ha vinto il titolo mondiale femminile della prova a cronometro davanti all'olandese Follering e l'americana Daigert. Il belga Remco Evenpol ha vinto invece quella maschile battendo sul traguardo di Zurigo gli italiani Filippo Ganna e Edoardo Affini. Tennis, la brasiliana Beatriz Haddad Maia ha vinto la finale del torneo Corea Open battendo la russa Daria Casactina in 3-7. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo sereno 23 gradi, a Delhaide cielo parzialmente nuvoloso 20 gradi, giornata con cielo nuvoloso anche a Melbourne 20 gradi, a Dobart cielo parzialmente nuvoloso 17 gradi, giornata di sole invece a Canberra, Sydney, Brisbane e Cairns. Le temperature 21 gradi a Canberra, 27 sia a Sydney che a Brisbane, 31 a Cairns. E a Darwin una giornata con cielo prevalentemente sereno. Punta massima 34 gradi. Pia Nazattina Punta massima 35 gradi. Un bellissimo eterno piedi a Canberra. Pia Nazattina Un bellissimo corriente fattuto del torneoา 0.